perché non è saggio dire alla tua fiamma gemella che siete fiamme gemelle se stai pensando di dire o spiegare alla persona che tu pensi che sia la tua fiamma gemella che siete fiamme gemelle ora appena fatto queste pezzati video non è per fatto se ne hai fatto ai 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 come è andata bene se lo hai fatto scrivimelo qui sotto nei commenti ok se lo dovessi aver fatto per chi l'ha fatto non serve che aggiunga altro ok in questo video voglio spiegare tre buone ragioni per cui secondo il mio modesto parere è meglio e non è saggio dire alla fiamma gemella che siete fiamme ok perché te lo dico perché così se stai pensando di farlo ma non l'hai ancora fatto puoi fermarti per tempo prima di fare uno degli errori più gravi secondo me che si possono fare nel tuo percorso per riunirti con la tua fiamma gemella ok ma di questo ne parleremo tra poco per cui rimani fino alla fine del video per scoprire quali sono queste tre buone ragioni e aggiungo la terza secondo vera più interessante e sorprendente perché ti farà riflettere molto illuminando ti ok per chi non mi conosce ciao a tutti sono gmi fascina ipnologo coach professionista preparatore mentale per sportivi cartomanter numerologo ricercatore il mondo dei fiamme gemelle operatore dei fiori di buck operatore del regista il vettore dei registi acasici operatore di vatics energetics operatore di access consciousness dei bars e tante altre cose non ti so spiegare che mi sono anche annoiato di ripetere video dopo video però te le devo dire perché magari non mi conosci e non sai cosa faccio ok prima di proseguire come sempre come al solito ovviamente dato che siamo su youtube metti mi piace e spacca col pollicione il video di mi piace iscriviti al canale previ sulla campanellina per avere la notifica degli nuovi video quando escono ok ma soprattutto ed è una richiesta che faccio a tutti ragazzi siamo a natale a natale siamo più buoni per cui fatevi un regalo di natale no niente soldi qualcuno ve lo chieda opere di bene ma fate diciamo un'opera di semi bene per il mio canale aiutandovi a raggiungere a gennaio a fine gennaio dell'anno prossimo il 2021 5000 iscritti al canale dai ragazzi per cui fate conoscere il mio lavoro fate conoscere quello che faccio condividete il mio canale perché comunque contengono informazioni che sono utili per tutti al di là del fatto che sono un percorso di fiamme oppure no ci sono informazioni secondo me che il mio canale può possono essere d'aiuto ok per cui aiutatevi a raggiungere questo obiettivo il mio grande obiettivo per gennaio 2000 2021 ok poi sempre prima di iniziare premetto che dell'argomento sul fatto di dire sul fatto di dire alla tua fiamma gemella che siete fiamme le ho già parlato non è la prima volta che ne parlo fatto un video un annetto fa più o meno vi sembra il caso di riprendere il discorso visto che comunque riviene fuori proprio poi aggiornando un po il video però se non hai visto il video che ho fatto l'anno scorso su questo argomento qui sotto in descrizione troverai ovviamente il link ok bene vediamo il tema di oggi ossia dovresti dire alla tua fiamma gemella che siete fiamme gemelle è saggio dirlo una risposta semplice pratica e diretta secondo me no per nessuna ragione dovete dire alla nostra fiamma gemella che siete fiamme ok proprio da evitare come la peste e lo sconsiglio proprio fortemente ok ma prima di spiegarti perché non dovresti farlo direi che bisogna riflettere invece sul perché solitamente sempre secondo me le persone lo fanno è un motivo molto semplice la paura ok perché dentro di voi c'è la paura di perdere la persona che pensate che sia la fiamma gemella o avete il desiderio di farla avvicinare a voi per poter stare insieme abbreviando i tempi del percorso che è necessario compiere per poter stare con la fiamma gemella e magari vi porta utilizzare questa strategia di dirgli o di dirle se il caso si sia una donna che siete fiamme che un po l'ultima spiaggia dopo aver provato veramente di tutto per riunirvi avete fatto veramente di tutto una cosa piuttosto un'altra lo so perché ve le raccontate in consulenza una marea per cui quindi rimane l'ultimo gesto disperato un po l'ultima carta da giocare che è quella di dirgli va beh a sto punto gli dico che siamo fiamme e insomma adesso perché non mi è rimasto altro ok quindi di base c'è una forte impazienza vostra e a questo punto da persona che utilizza fiori di bacca vi dico prendetevi il cavolo di impatienza impazienza che è un fiore di bacca per risolvere l'impazienza ok intanto per iniziare poi ci sarebbe da fare molto di più però intanto iniziate perché se no non siamo avanti ok ora vediamo al perché secondo me non è saggio dire alla vostra fiamma gemella che siete fiamme gemelle allora tre motivazioni la prima e questa motivazione l'avete già sentita da dire da dire da me in altri video ok così è che il parlare e condividere con la tua fiamma o con qualsiasi altra persona che non sia la tua fiamma gemella quindi posso dire un'amica cara un parente i vostri genitori piuttosto che qualcuno che hai conosciuto un conoscente un collega di lavoro quello che è quindi parlare di delle fiamme gemelle di riguarda sono un percorso di fiamme gemelle eccetera eccetera ho conosciuto questa persona ho scoperto il mondo delle fiamme gemelle bla 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 il fatto il solo semplice fatto di farlo toglie al percorso che state vivendo la sua santità e sacralità ok perché c'è una forte componente di sacralità nel percorso dei fiamme gemelle perché l'incontro con la nostra fiamma gemella è sicuramente l'incontro più importante che faremo nella nostra vita perché l'incontro con la parte più profonda di noi stessi ok è la verità di noi stessi che troppe volte diciamo abbiamo nascosto abbiamo nascosto ci siamo nascosti anzi dentro una vita finta facendo una vita finta magari decisa da altri che può essere un matrimonio per scappare dai genitori piuttosto che un matrimonio in cui non c'è più amore ma si sta insieme per convenienza per questo vivere per non far soffrire i figli oppure una vita di false sicurezza per esempio un lavoro che tu fai che comunque ti fa campare ma non è quello che vorresti fare fai magari l'impiegato di banca e invece volevi fare il fotografo piuttosto che il pittore piuttosto che che ne so il cuoco quello che è ok ma avremmo voluto fare un'altra vita però ci viviamo una finzione ok quando facciamo questo incontro con l'incontro sacro perché l'incontro sacro perché ci mette di fronte alla possibilità di poter vedere vivere la nostra vera forza la vera forza che abbiamo quando saremo completi perché quando siamo con la nostra fiamma e siamo in armonia l'energia che sentiamo che potremmo veramente spaccare il mondo ci fa capire quanto saremo forti quando saremo completi ok perché perché l'incontro è l'inizio dell'incontro con la nostra parte divina che è l'anima ok ed è il nostro percorso di ascensione il nostro processo di ascensione con processo sacro perché l'ascensione è il risveglio della nostra componente essenziale della nostra essenza che si prepara diciamo ad andare al di là del mondo della materia andare oltre a lasciare si spera questo piano ok dopo aver compreso chiaramente integrato tutte le lezioni che dobbiamo imparare per cui dobbiamo comprendere questo dobbiamo comprendere la sacralità di questo percorso e dargli il giusto valore ok ragazzi e ragazze anzi più ragazze che ragazzi però comunque va bene quindi per cui stiamo parlando quando parliamo del percorso di fiamme gemelle dell'incontro con la fiamma che è il tipo di legame più profondo che potrete avere con qualcuno cioè un legame viscerale perché è quello che hai tu con la tua anima e con te stesso e tu stesso tu stessa sei anche la tua fiamma perché la tua fiamma gemella sei tu come avete sentito dire fino allo finimento ok per cui quando una cosa è sacra quello che si dovrebbe fare quello che dovrebbe naturalmente venire da fare è il volerlo proteggere il tenerlo per sé insomma mantenere un certo livello di riservatezza con gli altri ok perché se è una cosa importante e non la dà impasto al mondo ok la proteggi la custodisci la tieni per te la tieni cara ok per cui non è un qualcosa in cui vuoi fare le discussioni da bar o vuoi discutere letteralmente al bar con la tua amica o col tuo amico col mercato in piazza o peggio ancora ti metti a fare della ventene sulla pubblica piazza di internet per esempio che sono post sulla tua bacheca in cui litighi col tuo ex o con la tua ex che magari è la tua fiamma in effetti perché potrebbe essere ti metti a litigare perché una gente vede quello che scrivete cioè sono cose veramente da bambini o peggio ancora con persone che non conosci in un gruppo su internet magari di facebook dove parlano di fiamme gemelle ok ora fa un po ridere perché io dico questo ma un gruppo anzi ne ho più di uno sulle fiamme gemelle ok e comunque le persone parlano con me di fiamme gemelle non è che fa ridere io il gruppo l'ho creato perché comunque ci sono delle persone interessate a questo argomento si rivolgono ad altre persone con risultati che definire dubbi è fare un complimento se non disastrosi queste persone sanno dove sbattere la testa allora è giusto che ci sia uno spazio che mi sono preso l'impegno di creare mantenere custodire e tra virgolette ordinare nel senso di tenere pulito abbastanza diciamo al sicuro per le persone che vogliono qualche modo avere un confronto un aiuto un sostegno ok su questo argomento ma non è la cosa ideale comunque c'è non è l'ideale per le persone parlare in un gruppo di questo rapporto con altre persone che nemmeno conosco per quanto possono estri solo anche persone almeno nel mio gruppo di supporto molto carine cioè ci mancherebbe però non è proprio l'ideale cioè non è quello che almeno cerco di trasmettere ok per cui quando parlate ad altre persone del vostro rapporto con la fiamma vi porta a compiere uno degli errori più grossi degli errori più grossi che secondo me le persone fanno prima di incontrare lavorare con me ok per cui prestate per attenzione se siete su gruppi di facebook sono social media caso come instagram o su forum o su blog o su quando commentati video sulle fiamme a quello che state dicendo e anche se lo state dicendo a come parlate della vostra fiamma gemella ok io comprendo che nella natura umana voler parlare di queste cose in generale voler parlare delle cose ok ma questo desiderio impellente che avete di condividere con tutti col mondo della vostra fiamma gemella è basato sull'energia della paura perché questo proprio questo bisogno nasce da un tratto della natura umana e la natura umana come tutte le cose umane come tutti gli aspetti legati al mondo materiale quindi la mente la psicologia umana sono per definizione organizzati gestiti governati dalla polarità della legge della qualità della paura che avete dentro quindi quando fate questo quando seguite questo tratto della natura umana di parlare 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 ossessivamente delle cose soprattutto riguardo alla fiamma non state che ha diventato la paura per cui idealmente non dovresti condividere con nessuno che cosa succede il tuo percorso di fiamma ok idealmente sottolineo questo ovvio che se mi contatti perché vuoi un aiuto per il tuo percorso è ovvio che con me lo devi condividere perché sennò come faccio aiutarti se non so niente ok ma idealmente non dovresti condividere con nessuno specie con sconosciuti in rete e soprattutto non con la tua fiamma gemella e dopo ti spiego meglio perché ok e per favore non inventarti la scusa che la tua fiamma gemella è più evoluta di te che forse capirebbe se tu dicessi che siete fiamme è una tua idea il tuo bisogno di questo le parliamo dopo ok credimi altri ci hanno provato prima di te e fidati quando ti dico che non è andata proprio benissimo ok perché succede questo ok perché anzi perché generale è bene non parlarne sono sconosciuti perché tu hai avuto la fortuna e questo non te ne rendi conto anche se se lo so è difficile da credere che ti è stata data l'energia che spinge perché come sapete le fiamme sono due polarità c'è una che spinge una che si ritira ok è stata data la polarità che spinge ok quella che spinge verso la fiamma per cui è stato dato a te la responsabilità di sapere cos'è il percorso di fiamma gemella ed imparare tramite questo percorso a diventare maggiormente consapevole di quello che succede all'interno del percorso quindi scoprire qual è il tuo ruolo quindi scoprire che intanto hai un ruolo in questo percorso e hai tu la responsabilità il potere di fare delle cose in questo percorso e di darti da fare per poter cambiare per poter evolvere per poter risolvere per poterti risolvere ok mentre la tua fiamma gemella ha l'energia che spinge ok per cui anche lei ha un ruolo ha avuto il ruolo allontanandosi da te scappandosi da te di spingerti a muoverti ok per cui anche lui o lei ha un suo ruolo ha un suo compito in questo percorso c'è un senso in questa follia citando shakespeare c'è un metodo diceva c'è un metodo in questa follia mi sembra che era l'ambleto se non ricordo male correggetemi quelli che hanno letto l'ambleto perché mi pare che fosse l'ambleto comunque vabbè per cui qual è il compito della tua fiamma è quello di farti vedere sempre di più con la sua fuga col suo allontanamento col suo ritrarsi da sé da te ma da sé perché sei tu comunque col tuo ritrarsi di farti tirar fuori sempre di più l'energia della paura che è intrappolata dentro di te e vedendo questa energia della paura che sei comunque tu che la tua parte che neghi ok i tuoi traumi le tue cose non risorte ti mostra delle parti di te che tu in qualche modo legami ok che hai avuto modo di che hai avuto la necessità di creare cioè che ti hanno portato a creare una fiamma gemella fuori da te che tu credi che sia separata da te ma in realtà non c'è anche se è la cosa più difficile capire per molti di voi che ti mostra finalmente quelle parti di te quindi ti fa vedere realmente per quello che sei ok e ti fa vedere quali sono le paure che tu devi bilanciare bilanciare significa annullare e chi si è iscritto chi si è abbonato al mio mio canale avrà visto se non l'ha ancora fatto vedetelo un video speciale che ho creato sul bilanciamento che contiene del materiale nuovo più aggiornato rispetto a rimagnetizia per quanto è complementare perché sono comunque delle cose basate comunque su rimagnetizia ma ci ho aggiunto qualche informazione nuova ok per cui qui potete approfondire questa cosa quindi ti fa vedere cosa hai bisogno di bilanciare quindi bilanciare e annullare quelle paure che una volta fatto questo lavoro ti fa ti permette poi di allinearti alla tua anima per imparare finalmente la cosa più importante di tutte che ripeto video dopo video che è quello di amarti ti insegna ad amarti perché come ho detto una cosa che ho notato molto che il problema più grosso che c'è nel percorso è che la maggior parte delle persone che sono in questo percorso non si amano ok è una cosa uno dei tratti più comuni che è noto ok per cui ogni volta che la tua fiamma ricompare nella tua vita quando tu inizi a bilanciare le tue paure inizia allinearti sempre più la tua anima questo porta la tua fiamma arriva a difestarsi o come di cui viene rimagnetizzata nella tua vita e quando ritorna quello che ti permette di fare è quello di tirarti fuori nuove opportunità nuove possibilità di vedere ulteriori paure che vergono guarire ulteriormente mostrarti quelle parti di te che stai legando e facendoti evolvere sempre di più facendoti proseguire accelerare il tuo percorso sempre di più e quello è il loro ruolo quello che il cui sono nella tua vita ok il tuo ruolo invece è quello di fare questo lavoro ok e di capire che il tuo ruolo è appunto quello di fare il tuo ruolo non di interferire con il loro ruolo non di interferire con la loro vita non interferire con il loro percorso non interferire con le loro scelte per cui se magari decide di rimettersi con la ex di fai la guerra ok o di preoccuparti di quello che fanno o di come lo fanno o perché tornano la tua vita o perché si allontanano non ti deve assolutamente preoccupare di tutto questo ok perché come ti ho detto tante volte ed è sempre molto difficile per voi capirlo tanto fiamma gemella non sta intenzionalmente volontariamente con l'intento di farti male anche se tu pensi questo lo accusi o l'accusi sta facendo niente consapevolmente è l'energia che lo porta a farlo quale energia è l'energia della tua anima che attraverso l'energia che spinge l'energia che si ritira quindi le due polarità che avete attraverso questa magica danza che fa parte del percorso delle fiamme porta la tua fiamma a riavvicinarsi a te perché quando tu riporti la centratura su di te e inizi a bilanciare inizi a alzare la tua vibrazione ok anche se lo sto certo e devi alzare la tua vibrazione per alzare con la tua fiamma questo lo dicono altri non lo dico io però è quello che comunque succede come effetto del bilanciare le paure la tua fiamma viene piano piano riportata a te perché si manifestano una forma a volte con un messaggio a volte con una chiamata a volte incontro con un incontro improvviso a volte con un parente un amico legato a lei insomma in qualche modo si ripresenta nella tua vita ok ti permette di lavorare ulteriormente sul prossimo livello sul prossimo step da fare quindi quello che tu devi fare ma l'energia a portare a farlo ok in maniera magnetica automatica non l'ha scelto non l'ha deciso ok per cui ogni volta che vengono riportati a te l'energia che spinge che è dentro di te che li riporta a te perché perché se tu tra virgolette inizia a spingere di meno poi l'energia si ricolloca dall'altra parte li spinge verso di te ok ma anche quello non è un equilibrio perché se tu ti ritiri ti riporti verso di te trecenti e loro si spingono non è un equilibrio l'equilibrio è quando la corsa si ferma del tutto ok è chiaro che sia da una parte o da un'altra la corsa si ferma del tutto ok per cui è la stessa energia che riporta avvicinarsi e la stessa che poi riporta allontanarsi cambia semplicemente la direzione dell'energia ma è sempre l'energia ok per cui la tua fiamma non sta facendo niente per ferirti volontariamente quindi non devi rimanere bloccato in questa idea non devi incolparli ok è un percorso che ha semplicemente questa struttura che si muove in questo modo quindi una volta che tu le capisci capisci anche che è la tua anima che determina tutto che la tua anima che ha il potere in questa cosa addirittura l'ha programmato prima che siete dati avete fatto il cosiddetto contratto prenatale o contratto animico avete deciso ok io farò quella che spinge tu farai quello che scappa e il nostro rapporto sarà basato in questa fase della nostra incarnazione su questo ok per cui è inutile che ti incavoli con la fiamma e peggio ancora che ti incavoli se sei credente tra virgolette con dio ma non è importante o che ti incavoli con l'anima cioè ok con l'anima non è che ti sta punendo non è una punizione il percorso alcuni di voi dai commenti che leggo pare che il percorso lo vivono come una punizione come una tortura eccetera eccetera e si disperano e si strappano i capelli e si lamentano e soffrono e intasano i gruppi e i forum di fiamme di lamentere di piagnistei e di accuse e quant'altro ragazzi ma finitela di fare queste cose ok è la tua anima che sta organizzando la relazione in questo modo ok per ognuno di voi c'è un ruolo c'è uno scopo il tuo ruolo dal tuo lato della barricata è quello di imparare come allinearti in maniera sempre più stretta la tua anima bilanciando le tue paure ed è quella di imparare finalmente come amarti come accettarti nonostante accettarti nonostante la tua fiamma sia allontanata da te nonostante la tua fiamma ti ha lasciato nonostante la tua fiamma ti ha abbandonato nonostante la tua fiamma ti fa soffrire nonostante la tua fiamma non vuole stare con te nonostante la tua fiamma ha scelto un altro o un'altra ok tutte queste sono le parti di te che tu devi bilanciare che devi integrare che devi superare perché sono tutti traumi per certi versi anzi solo dei traumi ok perché sono dei lutti a un certo livello quindi devi in qualche modo superare il lutto di queste parti di te capire che invece è stato un dono capire che la tua fiamma ti sta facendo del bene anche se adesso non lo capisce importante lo so che non lo capirete ma vabbè è così col tempo ci arriverete ok e ti mostra la verità delle cose ti mostra che non ti ami ti mostri che devi imparare ad amarti ok alcuni di voi hanno avuto l'occasione di vedere la saggezza spesso del maschile che vi ha fermato e vi ha detto tu devi amarti ok non devi volere qualcosa da te ma devi amarti voi non lo fate cavoli vostri però vi è stato detto so che alcuni di voi è stato detto perché nelle consulenze questa cosa viene fuori non per tutti o per tutte però viene fuori ok ripeto non è una cosa detta solo dal maschile come sento anche fiamme femminile che hanno detto al loro fiammo maschile che però era lui quello che in qualche modo spingeva tu devi imparare a amarti per cui non voglio fare una distinzione di genere perché non è così vera ok chiaro ok quindi il tuo obiettivo il tuo lavoro la proprio lavoro quello che devi fare su di te di accogliere tutto questo anche se è difficile per te di accettarlo e facendo tutto questo lavoro su di te ok grazie sulla base di quello che fa la tua fiamma che scappa ok che si allontana da te grazie alla tra virgolette alla propulsione che ti dà a muoverti perché ti spinge a muoverti la tua fiamma ti porta ad allinearti alla tua anima ok per cui è inutile che tu tra virgolette continui a scassare con oddio mi ha fatto male lo devo dire a tutti lo devo dire dei gruppi lo devo dire alle mie amiche devo fare due parole così alle mie amiche eccetera eccetera e della mentere eccetera ragazzi basta ok soprattutto anche la tua fiamma ed è quello che devi capire non ha necessità di sapere nella maniera più assoluta che siete fiamme ok non ha bisogno di sapere questo perché non ha bisogno di sapere questo perché non è il suo scopo dal suo lato della barricata non è quello che deve fare ok quello che sapere cos'è il percorso di fiamme tutto questo lavoro da fare è il tuo scopo il tuo lato della barricata non il suo non puoi pretendere che diventi il tuo perché fa il capriccio che lo deve sapere lo deve capire a tutti i costi ok non è quello che devono fare non è il loro scopo il loro scopo è permetterti di muoverti la tua fiamma l'ho ripetuto varie volte uno strumento è uno strumento per te perché lo strumento perché perché sei tu ok è uno strumento per te per riconoscerti per vederti per amarti ok tu è il tuo e lui o lei al suo di percorso cammino e diciamo modalità di vivere il percorso non possono essere uguali perché se fossero uguali paradossalmente anche se molto difficile vuole capire non starete insieme perché ci sarebbe tra virgolette la repulsione ok è un proprio un contratto un patto sacro che fate tu la fiamma ed è il patto illegale più sacro che ci può essere per cui discutere di questa cosa sul piano fisico sporcarlo sul piano fisico mettendoci piagnistei mettendoci condivisioni con altri ridurlo a un vero chiacchiericcio al gossip no tipo d'agospia detto d'agospia vabbè avete capito cioè dal gossip così è una cosa tristissima ok perché la comunicazione verbale ha il grosso svantaggio di amplificare di portare tutte le cose sul piano della polarità della paura dell'energia della paura perché la comunicazione verbale che nasce dalla mente perché la parola nasce dalla mente ok dal ragionamento alimentare già della paura la tua anima non ha bisogno delle parole per comunicare ok non ha bisogno del piano fisico per manifestarsi o meglio si si può vedere l'effetto dell'anima sul piano fisico ma non ha bisogno del piano fisico l'anima non ha bisogno delle parole l'anima già sa ok della comunicazione animica e va al di là delle parole e lo sapete bellissimo cosa vuol dire perché quando guardate la vostra fiamma generale gli occhi di che avete bisogno delle parole per comunicare con la fiamma il basto uno sguardo vi basta essere in sua presenza anzi molti di voi cioè o parlano fino allo sperimento con la fiamma quando state insieme alla fiamma oppure non parlano per niente perché non serve cioè con la fiamma tu impari a sentire non hai bisogno di parlare giusto confermate se è così scrivetemelo nei commenti perché so la gente diceva guarda questo racconta un sacco di cose ma se ne sta inventando me ne sto inventando io parlo solo per esperienze concrete pratiche cose che funzionano cose che sono vere se non le direi ok chiaro qui livello della parola e livello della paura ok nel tuo percorso di fiamma gemella non vuoi portare le cose a livello fisico non vuoi portare le cose a livello della paura giusto perché la paura porta separazione la paura non porterà mai unione il parlare non porterà mai unione non ci sono le tecniche di seduzione non c'è la frase giusta da dire alla tua fiamma così si riunisce con te non esistono queste cose ragazzi non le troverete mai non c'è una frase giusta da dire alla tua fiamma e l'ho fatto bene a dire così ho fatto male perché non è il rapporto di fiamma non è una comunicazione a livello della parola ok se è chiaro ci sono parole che avvicinano parole che allontanano ma non è quello il livello adatto non è quello il livello su cui dobbiamo lavorare ok cioè non è il livello che ci interessa il livello animico un livello molto più profondo un livello molto più sacro un livello dove c'è un significato che è più importante ok un livello del valore vero un livello molto più alto e molto più importante che sarà sempre sarà sempre superiore a qualsiasi cosa tu possa fare o dire nel percorso di fiamma nel percorso di fiamma voi vi chiedete sempre cosa devo fare la risposta che solitamente avete davvero sapete non fate niente anzi proprio perché non fate quindi lo state utilizzando lavorando a livello fisico funziona perché funziona perché nel non fare si crea il maggior movimento del fare si creano solo solitamente i casini proprio perché quando fate siete in preta la paura e fate solo dei grandi casini ok per cui il livello animico non si può neanche descrivere con le parole non ci sono non ci sono parole per descrivere come funziona il processo di fiamma nel modo giusto lo rende solo più lo svaluta ok noi dobbiamo svalutare questa sacralità di questo percorso ok e questa è la prima motivazione per cui non dovete assolutamente parlare alla vostra fiamma delle fiamme gemelle o neanche con nessun altro secondo motivo il secondo motivo per cui non dovete appunto parlare alla vostra fiamma delle fiamme gemelle è che quando portate tutto questo a livello di comunicazione verbale ok come ho detto prima introducete l'energia della paura del tutto ok ma quello che dobbiamo fare attraverso la parola non è aumentare l'energia della paura dobbiamo invece fare in modo di ridurla sempre di più dobbiamo bilanciarla quindi annullandola però da diventare questa polarità che sto ci porterebbe ad allontanarci ci porterebbe a far scappare la nostra fiamma da noi rivivere di nuovo il dolore il trauma dell'allontanamento una due tre quattro e c'è anche chi l'ha vissuta e 10 20 volte di fila ok si lascia si riprende in continuazione non vogliamo questo vogliamo interrompere questo ciclo no cioè spero spero per voi per cui se continua a parlare se continui a far sapere al mondo la tua situazione che la tua fama ti fa del mare eccetera eccetera oppure te ne lamenti con la fiamma discuti con la tua fiamma fai tutte queste cose basate sull'energia della paura non fai che aumentare e grandire sempre di più questa energia non la fai morire di fame ok per cui sostanzialmente ti dai la zappa a tuoi piedi ok lo scopo del percorso di fiamma come ho detto tante volte è quello di smettere di nutrire l'energia della paura per aumentare invece l'amore per se stessi per aumentare il livello dell'amore per portare luce e amore lo so parola ormai scontate abusate del mondo non per produrre per portare ulteriormente chiacchiere distinzioni discussioni etichette tipo divino maschile divino femminile eccetera eccetera ok cioè dobbiamo invece fare di tutto vogliare i nostri sforzi per ridurre sempre di più l'energia della paura ok il cui ogni desiderio che hai di parlare della tua fiamma da dove viene viene dalla tua polarità della paura viene dal desiderio della tua polarità della paura di alimentarsi quindi non devi assolutamente farlo devi fermare questa cosa interromperla sul nascere ok dirgli ok ho capito che ne vuoi parlare ma adesso no adesso basta cioè fermate questa cosa ok non cadete in questo errore non alimentate tra virgolette il gremlin che si ricorda il film gremlin degli anni 80 non alimentate il gremlin perché sennò diventa un mostriciattolo quindi questi mostri non vanno alimentati ok bella chiacchierata ora quello che dovete capire è che quando poi parlate portate tutto questo sul livello mentale ok il problema è che a livello mentale non risolverete il percorso il percorso come ho detto prima non si risolve a livello mentale ok non si risolve vedendo centomila video diversi di diecimila guru diversi sulle fiamme gemelle inclusi miei ok anche se il mio video in qualche modo serve ti aiuta perché quello che dico a differenza di altri serve in qualche modo per farti ricordare delle cose per farti risuonare dentro per le cose ora ricordare non è basato sul cervello non è basato sulla memoria ok quando noi ricordiamo una cosa vuol dire che la nostra anima che la ricorda perché la rima sa tutto quindi a noi andiamo a risvegliare quella parte molti dei discorsi che faccio come se parlassero a una parte di voi che è più saggio e capisce sente intuisce la verità profonda di quello che dico ok mentre invece i discorsi le spiegazioni lo spiegare alla fiamma cosa sono le fiamme vanno a livello del cervello non vanno a livello dell'anima ma tu dici ma non è vero io con l'anima parla con la mia fiamma parla a cuore aperto no che gli state gli state parlando a livello mentale per volete che volete che la vostra fiamma capisca perché secondo voi non capisce tutto chi l'ha detto che non capisce lo dite voi ma non detto che sia questo ok ma non è una cosa che funziona ok lo scopo dei video che faccio è quello di darvi un maggior livello di consapevolezza ok di capire come le cose che vi dico hanno la loro verità universale che sentite dentro cioè quello che vi dico lo sentite dentro che è vero la sensazione non è una comprensione a livello cerebrale non è a livello mentale che sto parlando anche se utilizzo la parola e linguaggio però in qualche modo una parte di voi lo sente che quello di voi che dico il vero ok per cui noi portando un maggior livello di consapevolezza cerco di aiutarvi a risvegliarvi a ricordare ma non è vedendo centomila video che capirete come dire la vostra fiamma che siete fiamme o capirete cosa farete ma ripeto non centomila video fossero centomila video miei pure pure intendo dire video fatti da altre cose fatte da altri ok percorso di fiamme non è un percorso della mente è un percorso che è basato sulla risonanza sulla verità dell'anima ok la nostra tua anima sa già tutto l'anima sa tutto ricorda tutto conosce tutto e noi dobbiamo lavorare a quel livello perché quando noi comunichiamo a livello animico la nostra fiamma tra virgolette può comprendere può può risonare in lei non a livello mentale non spiegandoglielo ok lo so che ripeto le cose in continuazione che sono cose sempre simili come un disco quasi rotto ma il fatto che io ripeto le stesse cose prima o poi in qualche modo a qualcuno farà presa una cosa a qualcuno farà presa un'altra a un certo punto la tua anima riuscirà finalmente a ricordare a risvegliarsi come diceva socrate che cercava di portare la reminiscenza delle persone facendogli ricordare con le domande le cose le persone prima o poi beccherò l'aggancio giusto che vi farà ricordare a livello animico la verità profonda di quello che dico quindi rientrerete in risonanza con quello che dico e a quel punto la verità entrerà in voi comprenderete cosa fare ok per cui la risonanza ce la potete avere con me quando ve la spiego e con la vostra fiamma l'avete proprio perché a livello animico non è un percorso cioè il percorso di fiamma non è a livello di mente ok è irrilevante la mente ma proprio la lasciata perdere perché il livello animico dove noi lavoriamo sorpassa qualsiasi cosa che la mente possa concepire che la mente possa capire perché la mente non può capire l'anima ok è irrilevante proprio non è importante ok per cui smettete di avere questa sensazione necessità di spiegare alla fiamma cosa siete di spiegare alla fiamma siamo fiamme perché un'etichetta ok un'etichetta che in qualche modo non fa che danveggiarvi non fa che crearvi casino le etichette della comunicazione sono utili nel mondo della terza dimensione per comunicare le cose ma non vi portano diciamo a niente ok perché perché le fiamme perché le etichette riducono l'esperienza ok per cui quando dite alla tua fiamma quando dite alla vostra fiamma siamo fiamme state riducendo la grandezza la magnificenza di questa esperienza ok le parole valgono poco le parole sono una cosa da poco le parole valutano le cose ok riducono restringono le cose restringono il livello animico del percorso le discorsi più belli che avete fatto con la vostra fiamma le comunicazioni più profonde che avete avuto con la vostra fiamma non è tramite le parole ne sono certo ok non è qualcosa che vi ha detto che l'avete detto ma è qualcosa che avete sentito per cui parlandone non fate che alimentare la mente alimentare i limiti creare delle etichette che fanno che riducono il valore l'energia che non rendono giustizia a quello che è il percorso di fiamma cioè vi fermate alla superficie delle cose ma non andate a livello profondo ok nessuno ed è anche i vostri amici quando gli parlate delle fiamme gemelle può capire questo tipo di esperienza segnere parlate se non hanno avuto quell'esperienza e se l'hanno avuta a quel punto può risuonare con loro il fatto di parlargliene o può risuonare con gli sconosciuti dei gruppi di fiamme gemelle che magari non hanno avuto questa esperienza solo se loro l'hanno avuta questa esperienza se l'hanno avuta non ci arriveranno mai non la comprenderanno mai non la coglieranno mai nella loro essenza ok possono capirlo a livello cerebrale ma non gli risuonerà dentro non lo sentiranno dentro ok può risuonare solo a livello animico quindi solo le persone che hanno avuto veramente questa esperienza possono capirlo sicuro diceva dei gruppi di fiamme da gente ha avuto questo tipo di esperienza allora mi può capire non è detto non è detto anzi non è detto che magari pensano di averla avuto ma non ce l'hanno ok magari sono un altro tipo di situazione un altro tipo di rapporto per cui non posso aiutarvi più di tanto ok per cui se anche spiegandolo non lo capirebbero cioè non potete aiutarli a capire cos'è il percorso di fiammati solitamente vi prendono per pazzi parenti vi prendono per pazzi ok e non tutti avranno l'occasione di incontrare o parlare con la loro fiamma ok se non hanno avuto questo processo di ascensione e nessuno e non tutti sono pronti per avere questo tipo di esperienza solo alcuni l'avranno almeno in questa incarnazione almeno in questo momento storico più avanti magari le cose cambieranno ok per cui se tu hai avuto questo tipo di esperienza devi tra virgolette dargli un valore riconoscere che un'esperienza grandissima con qualcosa di santo di meraviglioso che hai avuto che stai vivendo e che in qualche modo è un qualcosa diciamo che non si può spiegare è un qualcosa che tu hai avuto il privilegio di avere è sacro lo tieni per te ne sei consapevole ringrazi per questo per questo diciamo dono che hai avuto e tra virgolette vai avanti ok cercando di capire che se stai vivendo questo tipo di esperienza mentre altri non la vivono è tutto perfetto così è un bene così ok in ogni momento che stai vivendo di questa esperienza di questo momento è perfetto ok anche se la tua mente non capisce perché lo stai vivendo o se la mente degli altri non capisce perché lo stai vivendo se nessun altro ti crede che lo stai vivendo ti prendo per pazzo o tu stesso ti prendi per pazzo o per pazza ma sappi che non sei pazzo o pazza è importante diciamo che tu apprezzi questa cosa a dispetto di quello che ti dicono gli altri perché magari una cosa dolorosa che succede che tu chiedi magari aiuto agli altri ad amici e parenti e loro ti prendono per pazzo o ti isolano o ti fanno sentire in colpa o sbagliato per questo no invece tu volevi parlarne per cui se ti stavi zitto se non lo dicevi facevi tra virgolette meglio ok perché difficilmente ti possono capire non ne puoi parlare con nessuno ok e anche questo tra virgolette ha una sua perfezione ha una sua bellezza diciamo perché perché ti fa comprendere il valore della sacralità perché magari il concetto di sacralità il concetto di sacro l'avevi sentito parlare l'avevi sentito dire ma non l'avevi fatto tuo non l'avevi realmente compreso ok non avevi compreso la perfezione di tutto questo invece adesso la sacralità inizia a comprendere inizia a dargli il giusto valore ok inizia a dare il giusto valore a questo rapporto perché non è qualcosa che dovresti sbandierare a 4 20 ok chiaro? mi seguite fino a qua? ok per cui niente sul mondo fisico è importante la mente non è importante lo spiegare non è importante perché questo percorso trascende tutto questo ok per cui non vuoi per questo motivo condividerlo con altri perché non è un qualcosa che ha a che fare col mondo fisico non va messo al mondo fisico non va portato al mondo fisico ok bene adesso siamo arrivati al terzo punto che è quello secondo me più importante e più interessante ma prima di svelartelo ti ricordo che puoi abbonarti al mio canale abbonarti al mio canale supporta il mio canale e il mio lavoro di ricerca e divulgazione di contenuti utili per te se vuoi abbonarti sono 6 euro e 99 al mese puoi disiscriverti quando vuoi ci sono zero rischi puoi iscriverti per un solo mese per farti un'idea dei contenuti esclusivi che ho creato che potrebbero essere utili a te quando se ti unisci agli abbonati del canale ti dà accesso a una diretta mensile in cui puoi fare delle domande sulla tua situazione con la fiamma gemella e poi ti risponderò chiaramente in diretta le domande se sei abbonato o se non sei abbonato o no ok e poi avrai anche un video mensile esclusivo per gli abbonati su argomenti magari richiesti da voi dove posso fare diciamo degli approfondimenti o degli esercizi di gruppo magari canti in diretta o parlarvi di cose che non posso parlare di cui non parlo nuovamente nel canale perché l'algoritmo di youtube lo le ama e magari non sono solo legati a fiamme gemelle ma anche che le so alla crescita personale spirituale registi acascici a tutte le cose che faccio ok abbonarti mi permette di fare di più di produrre più contenuti di maggior qualità utilità per te perché posso focalizzarmi meglio sul come strutturarli e sulla loro esposizione piuttosto che su altro ok per cui puoi provare l'abbonamento per un mese premendo sul tasto abbonati che vedi accanto ad ogni video che c'è ed è questo tasto è accanto al tasto iscriviti però iscrivendovi non siete abbonati siete solo iscritti al canale abbonandovi siete anche abbonate al canale ok e lo trovi insomma sotto ogni singolo video oppure trovi diciamo la funzione abbonati nel mio canale di youtube quando tu entri nel mio canale di youtube a una sorta di pagina principale e lì lo trovi ok di recente ho pubblicato un approfondimento speciale sul bilanciamento con delle idee nuove che non sono neanche che rimagnetizza non totalmente non nel senso che in principi sono sempre quelli c'è la registrazione di una diretta super di due ore perché amo i miei video super lunghi e penso tra una settimana circa farò un nuovo video di approfondimento magari o un esercizio non so adesso sto decidendo insieme di abbonati cosa fare per cui abbonati per poterlo vedere ok trovi qui sotto in descrizione il link diretto per abbonarti bene veniamo adesso al terzo motivo per cui non è non è saggio diciamo dire la tua fiamma gemella ad altre persone che siete fiamme ok ora nel terzo motivo te lo porto come una riflessione da fare ok chiederti e chiediti anzi perché vuoi condividere con la tua fiamma gemella e te lo chiedo di farti proprio un'onesta riflessione proprio un onesto guardarti dentro e andare a fondo sul vero motivo per cui tu vuoi chiedere alla tua fiamma gemella vuoi dire alla tua fiamma gemella che siete fiamme ok cioè perché vorresti farlo perché hai senti questo bisogno ok perché hai questo desiderio ok perché la tua fiamma gemella perché dovrebbe importare alla tua fiamma gemella sapere dovrebbe importare secondo te sapere che siete fiamme gemella perché secondo te la tua fiamma gemella dovrebbe sapere conoscere il fatto che siete fiamme perché se ci pensi non è che le farà stare meglio ok perché perché loro sono magnificamente inconsapevoli perché anche l'inconsapevolezza per certi versi all'interno di un percorso molto più ampio un dono ok di tutto questo del fatto di essere fiamme sono benedettamente inconsapevoli o maledettamente per secondo voi però il concetto è sempre quello ok se tu fossi veramente onesto onesta con te stesso lo sai che c'è un motivo in particolare perché tu vuoi che loro sappiano che siete fiamme perché perché ti aspetti speri desideri con tutte le tue forze che ci sia una sorta di reazione a quello che fai una reazione in qualche modo ti dica qualcosa di rivelatorio da parte della tua fiamma gemella su di voi perché solitamente questa cosa si fa quando siete bloccati del rapporto quindi in qualche modo siete fermi o addirittura senti che si sta allontanando come dicevo all'inizio per cui tu lo fai perché per sapere se tutto il lavoro che stai facendo per poter stare con la tua fiamma sta in qualche modo avendo un effetto sta in qualche modo sta servendo a qualcosa ok tutto sto smazzamento eccetera per cui ti aspetti una qualche sorta di reazione dalla tua pianta dalla tua fiamma ok una reazione sul piano fisico ok magari se tu glielo dici potrebbero pensare probabilmente potrebbero pensare che sei matto no che tu gli dici guarda vedi noi siamo fiamme gemelle e questo ti dice ma che stai dicendo ok potrebbe pensare che sei impazzito o impazzita di colpo ok oppure potrebbero crederci magari potrebbero crederci perché no magari potrebbero crederci magari come dici tu come speri tu potrebbero crederci quel momento potrebbe per loro avere un senso che tu glielo dici ma è questa la cosa importante che voglio dirti non risuonerà a livello profondo con il loro percorso perché perché come ti ho detto non sono stati fatti la fiamma non è stata fatta per stare dal tuo lato della barricata perché l'energia opposta è complementare alla tua ok tu sei il lato che spinge la tua fiamma è il lato che si ritira ok per contratto animico come ti spiegavo prima ok la tua parte è quella che ha l'op che ha tra virgolette il vantaggio di conoscere destinata a conoscere cos'è il percorso ad essere consapevole di tutto quello che state facendo di quello che siete del perché lo siete ok e del lavoro da fare e tutto questo funziona in maniera meravigliosa sinergica fra di voi c'è proprio una danza una danza bellissima no in cui ogni parte si incastra perfettamente con l'altra parte in un rapporto opposto e complementare ok per cui non importa se sul piano fisico loro conoscono o se gli dici come funziona eccetera eccetera ok motivo per cui lo fai appunto è per avere una reazione dalla tua fiamma ok una reazione che in realtà è stata spinta stata creata dalla tua energia della polarità della paura ok che magari vorrebbe desidererebbe nel profondo una reazione in cui ti dato che si siamo così connessi si siamo fiamme gemelle si tu sei l'unica persona che esiste nella mia vita l'unica persona importante per me robe di questo tipo no cioè questo e magari sognate della vostra testa che vi dica ragazzi non funziona così non vi diranno questo ok la vostra polarità della paura vi porta a sperare questo a sperare che vi dicano questo ma non funziona ok no no perché perché appunto queste parole a cui date tanto peso che sperate tanto di sentire le parole non valgono niente le parole sono una roba da quattro soldi ok cioè non potete trasformare un qualcosa di sacro in un qualcosa che vale poco di cui si può parlare come si dice verba volant cioè le parole sono aria cioè bla 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 si ok a parole a parole a parole no cioè non potete portare le cose a quel livello a livello della parola potete dare così tanto peso a quello che la vostra fiamma vi dice eccetera io cosa vi dico invece l'opposto non date peso a quello che vi dice se vi dice una roba piuttosto che un'altra che sia buona o meno buona cioè non gli date peso non gli date valore quante volte l'ho detto questo quante volte avete ascoltato zero pazzi siete pazzi scusate senza offesa però siete pazzi ok ok le parole valgono niente questo la verità è una verità che vi piaccia non vi piaccia è una verità ok quando si parla del percorso di fiamme il fatto che le parole quello che è sul piano della parola valga zero valga niente è una profonda verità e dovete accettare questa cosa le parole non valgono niente le parole non significano niente nel percorso di fiamme ok le parole sono solo un modo per limitare le cose come l'ho detto sono delle scatole che inquadrano tutto il percorso che inquadrano e categorizzano le cose che scatolano le cose le riducono le svalutano ok le parole creano limiti le parole creano separazione le parole vi separano dalla vostra fiamma non vi fanno avvicinare voi pensate che dire vi faccia avvicinare alla vostra fiamma invece quando dite vi fate allontanare cioè che state creando un allontanamento della vostra fiamma non volete capire questa cosa parlare non vi avvicina fiamma vi allontana ok soprattutto parlare troppo parlare a sproposito spiegargli cosa sono le fiamme non è quello che vi avvicina a parte che siete già connessi per cui che dovete spiegargli sulla connessione la connessione non funziona a livello delle parole ok la parola anima anche quello è limitante perché la parola anima non è l'anima è una rappresentazione dell'anima ma l'anima non si riduce alla parola alla parola la parola fiamma gemello percorso di fiamme gemelle non descrive il percorso di fiamme gemelle ma è un pallido miraggio che non prende l'idea cioè voi potete parlare a qualcuno del percorso ma viverlo chi l'ha vissuto si rende conto che non c'entra niente non somiglia neanche alla cosa che raccontate molto più profondo a un livello molto più ampio qualcosa di molto più grande che ha delle implicazioni a livello mondiale come vi ho sempre detto cosa che credo non dica realtà nessuno fino in fondo nel percorso di fiamme che è molto più ampia e molto più grande di cui siamo appena all'inizio noi siamo appena alla punta di comprensione di cosa vuol dire il percorso di fiamme ok per cui quando avete questa necessità di parlare di condividere di parlare delle fiamme dappertutto dei gruppi sfogarvi con le amiche eccetera eccetera state andando contro la verità profonda che risuona della nostra anima perché percorso di fiamme un percorso di verità di ricerca della tua verità di ricerca della tua integrità di ricerca della tua sacralità che poi è l'amore per te stessi perché quando ti ami consideri te stesso sacro quando sei della verità consideri te stesso sacro perché la verità è sacra ragazzi c'è gente che è morta per proteggere la verità in guerra eccetera e non solo ok quindi la verità è sacra ok la verità è amore potete amare solo ciò che è vero non ciò che è finto ok il mondo è pieno di gente finta il mondo è pieno di gente finta che parla di febbre gemelle quelle che sono vere vi risuonano a livello animico ok nonostante molta gente mi fa ridere dice vedendo i miei video che io sono falso che io sono scuro eccetera eccetera queste persone non capito niente sono loro vedono solo loro stesse quando dicono che io sono scuro sono falso eccetera eccetera chi ha la capacità di sentire mi sente ok e non solo sente me ma sente la verità la verità va al di là di quello che vi dico va al di là di me io sono solo il canale che vi sta dicendo questa cosa questa cosa è una cosa che vi risuona dentro perché è vera la verità vi risuonerà inevitabilmente sempre dentro proprio perché è vera ok per cui non andate contro la vostra la vostra integrità non andate contro la vostra verità state valutando la vostra verità ok quindi se vi viene quest'urgenza di parlare eccetera eccetera prendete una pausa imparate a stare in silenzio imparate a stare in raccoglimento ok non condividete non sprecate energia ne sprecate troppa sprecate troppi pensieri sprecate troppo mentale ok parate ascoltare anima imparate a stare in anima imparate a stare nella vostra verità imparate a essere verità sarete verità quando quello che vi sto dicendo risuonerà un livello profondo più profondo di quello che è quello mentale per risuonarvi a livello profondo dovete essere onesti con voi stessi dovete essere onesti rispetto al vero motivo per cui avete questo bisogno impellente di dire a qualcuno soprattutto la vostra fiamma gemella che siete fiamme del percorso di fiamme di dire dei gruppi io sono fiamma gemella come se voi foste migliori degli altri perché siete ferma generale non siete niente sarei tentato di citare una frase detta da taylor darder in fight club sulla sulla cosa canticchiante ma non posso dire questi termini perché youtube lo li ama però se avete visto fight club vi riferì capirete quando vi riferisco alla canticchiante del mondo e non dico cosa perché l'ha visto che se non avete visto fight club vedetelo tra l'altro gran film è ancora più bello il libro di jack palaniuk ok cioè voi non siete niente ok quando imparerete ascoltare vostra anima sarete qualcosa di grande perché inizierete a sentire a far risuonare la vostra grandezza ok per cui non svalutatevi solo per avere una qualche forma di reazione della vostra fiamma ok sul piano fisico perché quella reazione sul piano fisco non vale niente non è il livello a cui vogliamo lavorare ok e questo in realtà non vale solo con la fiamma vale per tutto quello che volete ottenere della vita per ogni situazione non svendetevi non svalutatevi non svalutate il vostro lavoro la vostra dignità non svalutatevi ok se vuoi imparare come veramente diventare verità come integrare il piano animico nella tua vita ed iniziare a sentire la tua anima a superare le tue paure a superare la tua urgenza di parlare e condividere col mondo questa cosa solo per svalutarla se vuoi imparare ad amare te stesso te stessa veramente vuoi imparare insomma a fare tutte le cose che ho detto oggi ad amarti a livello profondo quello che ti consiglio è di iscriverti al mio percorso rimagnetizza la tua fiamma a gemella nella tua vita che è il percorso che ho creato per imparare ad allinearvi alla vostra anima a superare bilanciare le vostre paure a uscire da questo mentale che alimentate continuamente con le vostre parole con le vostre azioni con i vostri ragionamenti e avere tutti gli strumenti che ti servono per poterti finalmente direi iniziare ad amare e riunirti così con la parte più profonda di te che la tua anima e anche di conseguenza con la tua fiamma gemella se vuoi imparare come fare iscriviti al percorso rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita il percorso che ho creato con dopo tantissimo lavoro che porto avanti e promuovo anche con questi video per poterlo fare mi iscrivo l'email al mio indirizzo di posta elettronica che è gb fascina chiocciola gmail.com jd juventus id imola md milano md milano id imola fascina come fascina di legno chiocciola gmail.com tutto minuscolo tutto attaccato senza punti in mezzo mi raccomando e senza la y del mio nome è una italiana alla fine questo lo specifico di tutti i video rimandato di me dicendo che avete visto i miei video vi piacerebbe partecipare a rimagnetizza ok bene io spero che questo video vi abbia chiarito ulteriormente un ulteriore serie di cose di cui c'è la necessità di parlare mettete mi piace al video se lo avete fatto vi ho beccato che lo avete messo fatelo adesso ok se vuoi rimanere in contatto con me lo puoi fare attraverso i miei social cioè facebook sul mio profilo gmi fascina sulla mia pagina professionale gmi fascina e prologo sul mio gruppo di prosi regressive al mistero delle fiamme gemelle sempre qui su facebook tramite instagram mi trovi come fascina gb tramite il mio sito gb fascina punto it ok questi sono modi per contattarmi metti mi piace al video iscriviti al canale commentalo mi raccomando condividilo per far conoscere il mio lavoro a tuoi amici parenti quello che è e se vuoi e ti ringrazio fatti questo regalo di natale e abbonati al mio canale per sostenere il mio lavoro e aiutarmi a creare sempre di più contenuti utili per te ok un caro saluto da tutti un ciao da gb fascina e al prossimo video suggeritemi dei commenti dei prossimi video che vi piacerebbe che facessi e fatemi domande per aiutarmi a creare nuovi video e aiutatevi a raggiungere i 5.000 iscritti ciao a tutti da gb è veramente alla prossima volta ciao ciao